Ed ora la formula magica. Vince il Festival dei Giovani, la sesta finale in 7-20 agli EVB1 maschile, il Circolo Canottieri-Piediluco! Medaglia d'oro a Leonardo Matteucci! Un saluto speciale a tutti gli amici del Circolo Canottieri-Piediluco che ci ospitano sempre in occasione degli appuntamenti nazionali e questa bella vittoria di Leonardo ce la racconterà tra pochissimo ovviamente in diretta ai nostri microfoni. Ne approfitto per salutare anche il consigliere della Federazione Italiana Canottaggio Luciano Magistri con noi ieri anche durante la cerimonia e poi oggi ma ora la scena è tutta sua. Leo ma com'è andata questa gara? Bene, non mi aspettavo di arrivare prima. E com'è il fatto? Non so spiegarlo. Però sei stato fortissimo alle tattiche, a parte che non si dicono mai, quindi non raccontiamolo. Sappiamo che qualcuno ti sta seguendo in diretta anche da casa. Io saluto Marco ovviamente che ci sta seguendo ma tanti altri. Chi vogliamo salutare? Il mio Circolo, i miei lavori e la mia famiglia. E forza, Circolo Canottieri! Ti aiuto! Ciao!